Nel 1363 il re di Francia Giovanni il Buono concesse il ducato di Borgogna nella Francia centro-orientale con capoluogo di Gione e che prendeva il nome dall'antico regno dei Burgundi al figlio minore Filippo Lardito. Filippo Lardito si prodigò per espandere attraverso una corta politica matrimoniale i propri domini. Nel 1404 gli successe il figlio Giovanni di Borgogna che fu duca per circa 15 anni e fu l'artefice dell'alleanza tra la Borgogna e il regno di Inghilterra nella guerra dei cento anni contro la Francia. Anche il nuovo duca Filippo III di Borgogna figlio di Giovanni che divenne duca nel 1419 e guidò la Borgogna per circa mezzo secolo proseguì la guerra ma nel 1435 giunse ad un accordo con il monarca francese Carlo VII sovrano francese che con il trattato di Arras concesse ufficialmente l'indipendenza al ducato di Borgogna in cambio della sua rottura dell'alleanza con l'Inghilterra. Il trattato prevedeva un delle alleanze e Filippo di Borgogna aiutò Carlo VII a sconfiggere definitivamente gli inglesi ricacciandoli oltre la manica. Ma finita la guerra con l'Inghilterra Filippo dovette battersi duramente per mantenere l'indipendenza del ducato che Carlo VII di Francia minacciava mentre d'altra parte gli imperatori di Germania gli contestavano i possessi di vari ducati imperiali. Infatti a partire dal 1369 i ducati di Borgogna avevano assemblato per matrimonio eccessione dei vasti possedimenti. Oltre al nucleo storico della Borgogna possedevano altri feudi francesi sulle coste dell'Artois, della Piccardia e della Fiandra, e cioè le città di Arras, di Lilla, di Ypres, di Gande e di Bruges e anche Boulogne. I ducati di Borgogna possedevano anche i feudi imperiali della Franca Contea, attualmente in Francia, capoluogo Besançon. Il Brabante, c'è una vasta area del Belgio attuale, con le città di Bruxelles, Lovagno, Malin e Anversa. Poi altre regioni storiche del Belgio attuale, e cioè l'Hennau, con capoluogo Mons, e la Contea di Namur, sul mediocorso della Mosa, e poi i ducati di Lussemburgo e di Limburgo. Ancora più a nord, l'intera Olanda attuale, vale a dire le contee di Olanda e Zelanda, i ducati di Geldria, di Zutphen e la contea di Cleve. Insomma, gran parte del Benelux attuale. Questi territori erano inframezzati anche da stati ecclesiastici, che però erano sottoposti all'influenza borgognone, ad esempio la grande diocesi di Cambrai e quella di Liegi, e a nord il vescovado di Utrecht, nell'attuale Olanda. Si trattava di un territorio disomogeneo per popolazione, lingua e forme economiche, governato localmente dalla nobiltà feudale, a cui erano asserviti i contadini, e abitato anche da un'attiva e consapevole borghesia commerciale. Alcune zone del Brabante e dell'Olanda erano al centro dei grandi traffici europei. A Filippo III successe nel 1467 il figlio Carlo I, detto il temerario, che a differenza del padre condusse una politica aggressiva, mirando alla formazione di un vero e proprio stato borgognone e guerreggiando contro chiunque contestasse i suoi diritti sulle sue terre. Lo stato borgognone univa elementi di modernità, con un corpo di funzionari reclutato in gran parte nella Franca Contea, con una cultura giuridica di stampo romano diffusa dall'unica università del paese, quella di Lovagno, ma in esso perdurava anche l'importanza del servizio cavalleresco a corte che riuniva i capi della nobiltà locale. La corte e la sua cultura cavalleresca era anzi il principale fattore unificatore del principato borgognone. Le città erano autonome perché ricche e ben fornite di guarnigioni difensive, ma non avevano un ruolo di dirigenza politica che era riservata ai signori. Anche il clero era poco influente. Le abbazie erano soggette ai signori locali, mentre le grandi diocesi vennero spesso governate da esponenti illegittimi, poi solitamente legittimati, del casato ducale. Giovanni, il fratellasto del duca Filippo d'Erso il Buono, padre di Carlo il Temerario, fu vescovo di Cambrai dal 1439 al 1479, mentre i figli illegittimi di Filippo furono vescovi di Utrecht, Davide dal 1456 al 96, Filippo, ex ammiraglio d'Olanda, dal 1517 al 24. Il clero conservava però un primato culturale, mentre gli altri prelati mantenevano di solito i costumi cavallereschi nobiliari. Il basso e medio clero coltivava e approfondiva l'umanesimo italiano, conservando una forte e pura spiritualità. La pietà laica era anch'essa intensa e si manifestò nelle forme del beghinaggio, cioè comunità monastiche laiche, spesso femminili, e dell'educazione umanistica. La corte, sebbene in contatto anche con la vita religiosa reale, era dominata da una cultura poetico-religiosa cavalleresca che è una delle migliori manifestazioni di quello che è stato chiamato l'autunno del Medioevo, un'ultima eco della grande letteratura francese medievale. Vi prevaleva il gusto per l'allegoria, le personificazioni fantastiche di vizi e virtù, mentre personaggi mitologici, biblici e storici venivano tutti abbigliati come cavalieri nelle rappresentazioni iconografiche. Onore, avventura e gloria erano valori declamati ma anche sentiti. Le dame venivano presentate in una sfera protetta e separata. Alcuni degli autori migliori di questa letteratura erano dei gentiluomini, come il gran maestro di corte Olivier de la Marche e Claude Bouton, autore del Mirroir des Dames del 1520. Anche se le lingue parlate nei possedimenti borgognoni erano molteplici, la lingua d'uso a corte, parlata e scritta, era il francese. Ogni gran signore del ducato possedeva vaste biblioteche. Ma la vera eccellenza borgognona era la nuova arte della pittura lignea, che aveva le sue radici nelle raffinate miniature della Francia del Nord. Con i fratelli Van Eyck, prima metà del XV secolo, ad esempio, l'intimismo delle miniature, unito ai sentimenti della pietà popolare e dell'educazione umanistica, riceve forza luminosa, osservazione spirituale nella ritrattistica, estrema attenzione al particolare. Le opere di Hans Memling, seconda metà del XV secolo, testimoniano gli influssi reciproci tra cultura borgognone e tedesca. L'arte borgognone è riconoscibile anche nelle fabbriche di Arazzi, con scene simili a quelle della letteratura, nell'abbigliamento, nei cortei, nel teatro, nelle feste dei principi. Derivata dagli ordini cavallereschi delle crociate, era la decorazione più rappresentativa della corte borgognona, l'ordine del Tosondoro, istituito nel 1430 da Filippo il Buono e che riprendeva il simbolo degli argonauti, reso famoso da poemi medievali e che era immagine dell'arditezza cavalleresca, come l'incudine e le pietre focaie appese al collare dell'ordine. Oltre al collare i cavalieri indossavano vesti scarlatte foderate di zibellino. Tenevano i loro capitoli, cioè le loro riunioni, nei cori delle cattedrali. I loro stemmi sono ancora visibili a Notre-Dame di Bruges o a Saint-Rombeau di Malin. Eretici, traditori e codardi erano esclusi dall'ordine, mentre tutti i membri dovevano sottomettersi, anche il duca, all'ammunizione di Lode o di Biasimo sui loro comportamenti impartita individualmente nei capitoli. I cavalieri dell'ordine erano i primi consiglieri del principe e senza il loro consiglio egli non poteva muovere guerra. L'ordine del Tosondoro ha avuto una storia gloriosa e sopravvissuto, cioè allo stesso ducato di Borgogna, poiché divenne l'ordine onorifico principale, politicamente anche irrilevante, sotto l'impero di Carlo V nella prima metà del Cinquecento, e rimase uno degli ordini principali della nobiltà europea. Sintomatico di questa cultura cavalleresca cortense, fatta anche di fantasie, frasi tonanti, una certa boria, eccesso di cerimonie ed etichetta, è la famosa festa del fagiano tenuta nel 1454, un anno dopo la caduta di Costantinopoli, per incitare i cavalieri a nuove imprese in difesa della cristianità, immortalata anche in un quadro dell'epoca. In questa cerimonia, come in molte altre, il velluto e la seta, il broccato prezioso, le campanelle d'oro e d'argento, le piume, le pellicce di ogni sorta e le pietre preziose, erano usate e sciupate con una profusione di cui i ritratti del tempo ci danno solo una pallida idea. In una coreografia fiabesca e surreale, Olivier de la Marche chiese, durante questa cerimonia, a ogni cavaliere la solenne promessa di battersi per la cristianità. Il duca, in persona, promise di sfidare il sultano. Infine dall'alto comparve una dama simboleggiante la grazia divina, circondata da dodici virtù. Poi cominciò il ballo. Tutta la vita del palazzo ducale di Borgogna era minuziosamente dettata da regole di comportamento, da una distribuzione precisa e attenta di cariche e di ruoli cerimoniali. Un grande meccanismo che ai nostri occhi appare meraviglioso e frivolo al tempo stesso. I cavalieri Borgognoni, alla prova dei fatti, alternarono prove negative, come la sconfitta di Nicopoli, subita nel 1396 ad opera dei turchi, ad altri in cui invece manifestarono arditezza e ferocia, e che permisero, così a Carlo il temerario, di operare molte conquiste. All'interno di questo mondo cavalleresco prendeva anche forma una cultura moderna dello Stato, poiché le conquiste erano spesso indirizzate alla continuità territoriale dei possedimenti. Nel 1476 Carlo il temerario venne però sconfitto dagli svizzeri nella battaglia di Grandson e da lì ci fu un seguito di altre sconfitte gravi che nel 1477 culminarono con la morte di Carlo alla testa delle sue truppe nella battaglia di Nancy contro Renato di Lorena. Ma in quello stesso anno la figlia di Carlo, Maria di Borgogna, unica figlia ed erede del duca, sposò l'arciduca Massimiliano di Asburgo. Il matrimonio faceva parte del progetto, accarezzato da Carlo il temerario, di ottenere l'appoggio degli Asburgo, spesso eletti imperatori tedeschi, per trasformare la Borgogna in un vero e proprio Stato indipendente. Dopo la morte del padre Maria e suo marito Massimiliano d'Asburgo dovessero impegnarsi in una guerra contro Luigi XI di Francia che intendeva annettere il Ducato alla Francia. La guerra si protrasse per cinque anni e solo nel 1482 si giunse al secondo trattato di Arras che divideva i territori del Ducato di Borgogna, assegnando al re di Francia la Borgogna storica, cioè la regione di Digione. Anche Bologna e la Piccardia furono attribuite alla Francia. Mentre Massimiliano d'Asburgo, il marito di Maria, che intanto era morta quell'anno, si vide assegnare le Fiandre, tutti i Paesi Bassi, il Lussemburgo e la Franca Contea. Nipote di Massimiliano fu Carlo V d'Asburgo, che più tardi divenne duca di Borgogna nel 1515. Nel 1519 fu nominato imperatore e tentò a lungo, senza però riuscirvi, di riprendersi la Borgogna. Per molti anni la reggenza dei Paesi Bassi sarà nelle mani di sua zia Margherita d'Asburgo, figlia di Massimiliano d'Asburgo e Maria di Borgogna. Margherita gestirà la sua reggenza con sagacia politica ed anche assecondando gli interessi economici della borghesia locale. Infine, alla morte di Carlo V, i Paesi Bassi entreranno a far parte della corona spagnola, sotto la sovranità del figlio di Carlo V, Filippo II, re di Spagna. Eseguirà una insurrezione, una guerra civile, che porterà alla divisione definitiva dei Paesi Bassi nell'area dell'attuale Belgio, distinta dalle province unite olandesi, che alla fine ottennero l'indipendenza e costituirono nel Seicento lo stato più prospero ed economicamente avanzato d'Europa. Come si vede, lo stato borgognone fu all'incrocio di alcune delle principali linee di forza dello sviluppo della storia europea. Fu, come abbiamo già detto, custode della cultura cavaleresca tardo-medievale che si apriva alle esigenze della modernità politica ed economica. Fu terra di arte, cultura ed economia. Influenzò la formazione del giovane imperatore Carlo V, che sarà la figura storica principale della prima metà del Cinquecento, e la sua borghesia darà vita al secolo d'oro olandese che apre la strada all'economia capitalistica moderna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.